Ma a che punto è la qualità dell'aria in Italia in rapporto allo smog? Le città che hanno i problemi più rilevanti di inquinamento dell'aria sono le città del Bacino Padano, ma anche alcune città del centro e del sud come Terni, Frosinone, Benevento, Napoli. In questi casi ci sono delle condizioni meteoclimatiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera e questo è il motivo per cui quando i giorni di stabilità atmosferica perdurano, le concentrazioni di questi inquinanti aumentano fino a superare i valori limite previsti dalla normativa che servono a tutelare la salute dei cittadini.